Che cos'è Retake Roma? Retake Roma è un movimento spontaneo di cittadini che si occupa di riprendersi Roma dal degrado. Stiamo raggiungendo i 30.000 su Facebook e ci seguono su Facebook. Poi ovviamente non possiamo dire quante persone partecipano ai vari retake, però abbiamo dai 60 ai 70 gruppi su Roma. Posso dire che ogni settimana almeno 200 persone scendono in strada, dai 100 ai 200 persone scendono in strada per riprendersi un pezzettino del loro quartiere. Oggi siamo a Via Giulia con alcune realtà del territorio. Siamo per esempio con i ragazzi del Virgilio, i ragazzi dello IED, l'Istituto Europeo di Design, a un'azienda, dei dipendenti di un'azienda del quartiere, più residenti e commercianti per riprenderci questa strada. Stiamo pulendo dai graffiti, stiamo togliendo adesivi abusivi, ci stiamo dicendo dando un aspetto di decoro a una delle strade più belle e più iconiche della città. Secondo te Roma è una città pronta per ospitare un evento come il Giubileo? Non penso che Roma sia pronta in questo momento per ospitare il Giubileo, ma so che c'è tanta gente che sta lavorando perché sia pronta. Grazie a tutti i nostri spettatori,